Le condizioni di Juan Quadrado preoccupano i fan dell'Inter. Che non vedono l'ora di notizie dalla Colombia, per suo infortunio lo avevano costretto a cambiare. O l'intervallo della sfida contro il Venezuela lo scorso venerdì e che, fino a ieri, non è stato addestrato con resto di IL Gruppo. Solo 24 ore fa ritorno disponibile per l'allenatore Nestor Lorenzo. Ma oggi la piccola doccia fredda con il vice CT Amaranto Perea che ha rivelato vero problema che lo sta condinando. Tendonite non porblema muscolare puro. Ma un problema leggermente più difficile da gestire come tendine e tendinite detto Perea ed è disagio che lo ha costretto a dare una tariffa fissa nel gioco precedente. Evoluzione del problema. Al momento non sappiamo se Juan possa o meno essere il nostro contro il Cile. Tra il nostro personale medico e quello dell'Inter c'è una comunicazione costante. Vogliamo salvaguardare la salute del ragazzo. La speranza è di averlo infield. Non è del tutto escluso.